goodnob and bollino faccio sto video un secondo per giustificare il fatto che ho levato il mio ultimo video quello la youtuber venduti perché me l'ha fatto levante insomma spero che il messaggio sia arrivato ma comunque niente non perché ho timore di qualcosa mi fanno chiudere il canale e poi non avrà più senso manco quel po' che dico meglio quel po' che dico senza queste cose sto a preparare i video che non c'entra niente datemi fiato a queste storie antartide cose continuo a dibattere ma continuo i discorsi che facevo negli altri video perdonate l'inconveniente fermo restando che queste sono le mie idee però mi sono rispettato noi siamo ospiti see you later a via 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 Grazie.